Il libro Comedaria di Ada D'Adamo, la scrittrice 55enne di Ortona scomparsa lo scorso primo aprile, oltre ad essersi aggiudicato il premio strega giovani anche tra i cinque finalisti del premio strega 2023 che verranno presentati a Francavilla al Mare dal Festival Squilibri il 23 giugno alle 21. Il libro di Ada D'Adamo nella classifica provvisoria dello strega è al secondo posto con 199 voti preceduto soltanto da Milimitava da Maretè di Rossella Postorino con 217 preferenze. Lo strega verrà assegnato con l'ultima votazione giovedì 6 luglio.